Ciao amici del Centroverde, oggi voglio parlarvi di una macchina straordinaria creata da Grillo, un raserba idrostatico con piatto frontale, l'FD280. Il piatto frontale, il bloccaggio del differenziale, le alte prestazioni ad elevata qualità di taglio raccolta, sono le principali caratteristiche di questa macchina. L'innovativo sistema di taglio Grillo Overblow permette un accelerazione del flusso aria erba nel condotto che aumenta notevolmente la capacità di carico anche in condizioni di forte umidità e allo stesso tempo ottiene sotto controllo la rumorosità dell'intero sistema di taglio raccolta. Il piatto frontale consente una perfetta visibilità sulla zona di taglio. La guida volante, le dimensioni compatto e ridottissimo a raggio di sterzata rendono Grillo FD280 agile con una guida semplice alla portata di tutti e allo stesso tempo con le doti necessarie per usi professionali in spazi ristretti. Il piatto di FD280 ha due lame controrottanti, non sovrapposte, quindi senza obbligo di fase, ed una terza centrale. È unico nel suo genere. È posizionato frontalmente, avanzato e totalmente a sbalzo rispetto all'operatore, quindi ci permette una visibilità ottima di lavoro. Consente un taglio preciso anche sotto cespugli o rami bassi, limitando gli interventi di finiture. La robusta ciglia di trasmissione trapezoidale e non dentata dell'apparato di taglio, in caso di urti con sassi o altro, non subirà danni. La larghezza di taglio di FD280 è di 113 cm, l'altezza invece varia da un minimo di 30 fino a un massimo di 90 mm, ed è possibile effettuando la regolazione agendo sulla leva a sette posizioni posta a fianco della poltroncina di guida. Il piatto con raccolta può essere trasformato in piatto mulching utilizzando il kit opzionale dedicato. L'innovativo sistema di taglio permette un'elevata accelerazione del flusso d'aria erba. Le tre lame lanciano contemporaneamente l'erba nel condotto, ampio e diretto, che porta al cesto, aumentando fortemente la velocità di carico, caricando l'erba a grande velocità che viene maggiormente compattata, aumentando l'efficienza dei 280 litri di volume del cesto. In condizioni difficili, con forte umidità ed erba alta, l'efficienza del sistema grillo è insuperabile. Nella stagione autunnale, quando i tappeti di foglie ricoprono il prato, FD280 riesce a raccogliere completamente senza intasamenti. Il nostro grillo è un raserma estremamente maneggevole e piacevole da guidare. La guida a volante e l'asse posteriore sterzante permettono un raggio interno di sterzata di soli 30 centimetri. La trasmissione idrostatica viene pilotata da un unico pedale che comanda sia l'avanzamento che la retromarcia. Pedale dotato di ammortizzatore per impedire i sobbalzi. In spazi ridotti, quando si fanno manovre o in presenza di ostacoli, FD280 sarà sempre agile. Grazie al piatto flottante, il taglio sarà sempre perfetto anche in terreni ondulati. L'asse posteriore basculante, le ruote motrici a profilo garden e il sistema che sostiene il piatto permettono a FD280 di seguire con precisione ridossi a vallamenti, tagliando in modo preciso e senza rovinare il manto erboso. La velocità del nostro FD280 va da 0 a 9,5 km orari. Le ruote del piatto sono in gomma piena, impossibile forarle quindi. La manutenzione del nostro giardino sarà rapida e di alta qualità e quando serve il bloccaggio differenziale con pedale push-up a disinserimento automatico aumenta trazione e sicurezza. A cesto pieno le lame si disinnestano automaticamente. Il taglio viene interrotto per impedire intasamenti. È possibile anche scegliere l'opzione segnalatore acustico, basta rimuovere un connettore elettrico che avvisa dell'avvenuto riempimento. Scaricare il cesto pieno di FD280 è facile. Tramite un polsante a fianco del sedile verrà comandato un martinetto elettrico che solleverà il cesto. Il cesto si aprirà automaticamente svuotandosi completamente. L'apertura del cesto di raccolta è magnetica, semplice ed efficace. L'azionamento dell'apparato di taglio avviene tramite una frizione elettromagnetica. Il comando è a pulsante ed ha una spia per indicare il funzionamento. Il freno di stazionamento è a disco e viene comandato da una pratica leva che ci permette di scendere dalla macchina con motore acceso. FD280 dispone di motore vanguard da 14 cavalli ad avviamento elettrico a benzina con serbatoio da 8 litri. Il motore bicilindrico a valvola in testa ha una cilindrata di 479 cc e adotta soluzioni moderne che ne garantiscono l'affidabilità, basse emissioni, consumi ridotti, alte prestazioni e vibrazioni ridotte al minimo. La marmita di scarico è studiata da grillo per ottenere un alto abbattimento acustico e minima resistenza allo scarico. Il motore è di tipo professionale con cuscinetti sull'albero a gomito, pompa dell'olio, filtro dell'olio e cilindri in ghisa. Il design di grillo FD280 non lascia indifferenti, colpiscono subito le linee moderne della caranatura e la cura nei dettagli. La posizione di guida è ergonomica, il sedile è molleggiato e regolabile. Insieme al volante regolabile in altezza fanno di FD280 un raserba adatto a tutte le esigenze. A fine lavoro la pulizia del piatto sarà sempre veloce e alla portata di tutti. Il piatto è dotato di presa di lavaggio, collegandovi un tubo dell'acqua tutto l'apparato di taglio si pulirà senza fare alcuna fatica. Il piatto di taglio è inoltre facilmente smontabile. Per posizionarlo in posizione verticale basta scollegare la cinghia di trazione per rendere immediato ogni tipo di manutenzione. Inoltre è possibile anche sfilare il canale di carico. Gli organi di trasmissione del motore sono accessibili sollevando il cesto e il sedile. Tutti i componenti dai più semplici ai più complessi sono di alta qualità. Telaio, trasmissione di taglio, piatto, tutto viene costruito da grillo in Italia utilizzando i migliori materiali e le tecnologie più moderne per avere una qualità alta, costante e controllata al 100%. Come tutti i prodotti grillo, FD280 è progettato e costruito per durare e mantenere il suo valore per molti anni. Per informazioni su questo prodotto clicca sul link in descrizione, collegati al nostro sito, metti mi piace sulla nostra pagina Facebook.